buon pomeriggio a tutti i ragazzi e benvenuti al mio canale be world 2.3 che cosa parleremo in questo video semplice oggi parleremo che oggi è la festa del santo padrono san giuseppe oggi il 28 d'agosto di santa maria di codia però vi mostrerò allora ieri ho fatto la sbarata un video che ho fatto oggi e poi vi mostrerò anche dei video fatti tre ore fa mentre ero fuori d'accordo vi auguro una buona visione sì sì ora c'è l'accento grazie Grazie a tutti. 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 Qua. Iscrivetevi al video. canale. Grazie a tutti. Alla prossima. Ciao. Ciao. ?